Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Ben tornare sul canale di Times Gadget. Siamo oggi ancora qui con il nostro Galaxy Note 10 Plus sotto la nostra lente, perché oggi andiamo a vedere, cosa che non poteva assolutamente mancare neanche per questo nuovo top di gamma, la recensione e le nuove cover della Rinke. La Rinke quest'anno ha prodotto ben 5 differenti modelli, poi chiaramente ogni modello ha tante diverse colorazioni e finiture, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione direttamente ad Amazon Italia, dove potete trovare tutti i vari modelli, tutte le colorazioni a prezzi molto contenuti. Infatti la cosa positiva di questa azienda è che produce sempre delle ottime cover, delle più che buone cover, a prezzi però molto molto contenuti, quindi molto economici. Partiamo dal modello di base, che è questo qui, che è la Clear, che ha un prezzo di 7,99€ se non vado errato, quindi molto contenuto, molto basso, fino ad arrivare a un tetto massimo di 13 o 12, tra i 12 e i 14€, poi a seconda del modello ma anche a seconda delle volte dell'offerta che trovate. Quindi dei prezzi davvero ottimi e alla portata di tutti. Allora, parto subito con il vedere la prima cover, mettiamo qui da parte tutta la pila delle cover e partiamo subito dal primo modello e oggi andiamo a vedere la Clear. La Clear, chiaramente tutti questi modelli vi faccio vedere, cosa non ve l'ho detto ma è quasi sottointesa ormai, sono disponibili non solo per il Note 10 Plus, che oltretutto anche per quello 5G sono i medesimi modelli, ma anche per il Note 10 normale. E poi chiaramente chi mi segue sul canale sa benissimo che queste rinche sono disponibili come cover per tanti altri differenti top di gamma, ma anche per tanti altri differenti smartphone di fascia media o di fascia bassa. Poi li potete trovare chiaramente tutti su Amazon. Tutti i Mini 3Grade approvato, quindi non ve lo sto più a far vedere per tutte, ma ricordatevi che tutti hanno i drop test, Mini 3Grade 810G come standard. Confezione ormai classica da rinche, molto minimale, c'è solo questa bussa, l'andiamo ad aprire. All'interno andiamo a trovare i soliti fogliettini su come si installa la cover, se non sbaglio no, adesso qui non ci sono. Nelle altre confezioni c'era anche gli altri fogliettini, facciamo vedere tutti gli altri accessori da rinche che potete trovare sullo store, ma questo qui lo mettiamo da una parte. E andiamo a vedere questa qui. Allora, questa qui è la Clear, dato che già lo dice il nome, guardate qui, totalmente pulita, totalmente trasparente. Non abbiamo dei bordi molto rinforzati e questo qui forse è l'unico Neo che posso trovare di questa cover. E un altro piccolo Neo è che purtroppo questo modello con il tempo si va un po' ad ingiallire. Io ho provato queste Clear diverso tempo fa per altri smartphone, sempre dalla rinche, questo qui forse è l'unico modello che si va ingiallire, fra queste della rinche. E vi devo dire che dopo qualche mese, due o tre mesi di utilizzo, questa parte qui intorno, man mano che la andate a utilizzare, mettendola non solo in mano ma anche nelle tasche, negli zani, si comincia un po' a colorare un po' di giallo. Forse questo qui è il vero Neo, il punto debole di questa cover. Poi per il resto, no ragazzi, altrimenti è una cover totalmente pulita, minimale, sottile, leggera, abbiamo i bordi razzati sulla parte superiore e inferiore, buoni per quanto riguarda i fori per i connettori, si può utilizzare la porta USB senza dove andare a togliere la cover. Qui da un lato abbiamo i due classici forellini per andare ad attaccare l'accetto da polso, tasto di accensione e spegnimento, adesso anche quest'anno di Bixby è righettato rispetto al bilancio del volume, quindi si distingue benissimo. E poi abbiamo il classico foro per la fotocamera qui sopra, i classici forelli nella parte superiore, qui sopra non abbiamo il foro per il carrellino della sim, ma è una cosa molto rara, quasi nessuna azienda lascia il foro per il carrellino, anche se secondo me sarebbe una cosa molto molto buona, molto intelligente a lasciarlo, perché alcuni che devono togliere la micro sim o la micro SD potrebbe essere utile. E poi chiaramente ragazzi è una cover totalmente trasparente, non abbiamo purtroppo tutti i bordi rinforzati, quindi ha un military grade ma diciamo di livello inferiore rispetto agli altri, non resiste a 2-3 metri di altezza, ma secondo me qui si tratta di un metro, un metro e mezzo circa di caduta, quindi è abbastanza anche delicata. Però comunque risulta una cover abbastanza piacevole, poi non scivola perché si tiene benissimo in mano dato che fa grip e non trattene neanche tanto le ditate. Devo dire che con questo tipo di colorazione del Note 10 Plus bianco non si vedono quasi male le ditate, guardate anche in contoluce rimane sempre bella pulita. Questo modello come ho detto prima lo potete trovare su Amazon ad un prezzo di 7,99€, quindi molto molto contenuto, io come al solito vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Secondo modello invece ragazzi mi sono reso conto che è lo stesso identico modello di quello che vi ho fatto vedere ora, mi credevo che fosse la Rinke Fusion, quello che è totalmente trasparente ma si vede che l'azienda stessa ha sbagliato a mandarmi questo modello. Io sinceramente non tutte le avevo aperte le scatole ma pensavo che fossero differenti come modelli anche perché come ho detto prima molte di queste cover le ho già provate la Rinke per altri smartphone, ecco perché già vi sapevo dire se questa si andava a ingiallire o come si comportava. Però purtroppo questa qui dato che è la stessa la mettiamo qui da parte e passiamo invece alla terza, terza che già abbiamo visto in altre occasioni, la Fusion X. Sempre molto interessante come cover, soprattutto perché la possiamo trovare in varie colorazioni, infatti io dovrei avere anche qui, no, solitamente c'è anche quella blu che è molto interessante, poi comunque vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione per le altre colorazioni. Qui abbiamo il solito fogliettino per andare a capire come si va a installare una guida, su come si installa la cover ma non penso che serva una guida. Andiamo a togliere i soliti film, le solite pellicole qua protettive che sono davvero odiose perché non si vanno mai a togliere. Allora ecco qua la prima, andiamo a togliere che è quella esterna e poi ci manca adesso anche quella interna. Ok questa qui è venuta via un po' prima e le togliamo e andiamo subito a mettere il telefono perché comunque internamente è la classica Fusion X con tutta la parte trasparente, con tutti questi bordi perimetrali che sono tutti in TPU. Il brand è qui sotto, andiamo a mettere adesso il telefono così vi faccio vedere un po' come sta. Chiaramente adesso abbiamo questo contrasto tra bianco e nero, può piacere, non può piacere, questo qui è una cosa soggettiva, però secondo me non sta affatto male questo bianco e nero. Se non vado errato per questo Notte 10 Plus e Notte 10 ci dovrebbe essere anche blu e anche rossa che sono un po' i classici colori di questa azienda, di questa sua linea di cover. Allora tutti e quattro i bordi rinforzati a differenza di quella di prima, questa qui è una cover con certificazione militare ma che veramente, realmente protegge dagli urti e dalle cadute. Qui arriviamo a un circa 2-3 metri di altezza, 2 metri e mezzo se non vado errato. Abbiamo i bordi rialzati nella parte anteriore sia superiormente che inferiormente per andare a proteggere il display. Tutti i bordi sono tutti sfaccettati sia a destra che a sinistra perché aiutano notevolmente il grip e la presa con una mano, quindi facilitano tantissimo l'utilizzo, specialmente nell'utilizzo quotidiano si tiene molto molto bene questa cover. Mi sono piaciuti i tasti qui di accensione, i tasti fisici perché abbiamo il tasto Bixby o comunque quello di accensione attualmente che è tutto righettato e si va a distinguere benissimo dal bilanciere del volume. Mi sono piaciuti tutti questi rialzi, tutte queste sfaccettature che vanno anche a rendere la cover più sportiva ma la vanno anche a rendere molto più protettiva. Nella parte posteriore qui abbiamo tutti e quattro i piedini che sono perfino rialzati nella parte posteriore in modo tale da non far toccare questa parte trasparente in modo tale che neanche si va a rigare. La camera è ben protetta, per quanto riguarda invece i fori sotto sono abbastanza diciamo sottili, abbastanza ampi ma avendo questi due scalini, questi due dentini vedete che sono leggermente un po' più sporgenti, in questo caso purtroppo la pena USB non può essere utilizzata quindi dovete togliere per forza la cover per poter utilizzare la porta OTG. Mentre cosa ben diversa è molto più comoda l'alloggiamento per la S-Pen perché c'è stato una specie di invito qui vedete di discesetta piccola, un gradino che va quasi a facilitare la presa della S-Pen e quindi si va a togliere senza nessun tipo di problema, senza contare che anche sotto è totalmente aperta. Ma allo stesso tempo è ben protetto l'alloggiamento perché vedete abbiamo questo dentino e quest'altro che vanno a proteggere quest'angolo. E poi ragazzi è la classica Rink Fusion X, brand dell'azienda qui sotto, i due forillini qui da un lato per il laccetto anche su questo modello da polso e poi abbiamo il logo della Fusion X qui da questa parte sul lato destro. Quindi davvero una bella cover, oltretutto puoi sentire, è molto molto resistente, chiaramente è adatta a un pubblico di sportivi, a un pubblico che piace questo tipo di cover, questo tipo di linea molto più sportiva ma anche molto più rugged che però dall'altro si tiene benissimo in mano, specialmente per questi telefoni così grandi devo dire la consiglio e abbiamo un prezzo molto molto contenuto. Questa qui mi sembra che è il prezzo più alto della serie della Rink e arriviamo a un prezzo di 12-13€ circa. Comunque sempre acquistabile su Amazon, vi lascio come al solito i link qui sotto, poi fatemi sapere voi che cosa ne pensate e se l'avete già acquistato o già provata. Vi dogo anche questo modello ragazzi e passiamo subito all'altro. Terzo modello invece in questione, andiamo a vedere l'altra Fusion X, questa qui secondo me è una delle mie preferite e secondo me è anche fra le più belle e le più interessanti perché parliamo della Fusion X con la texture con il retro camo. Come finitura è davvero molto particolare perché abbiamo un tipo di camo che è leggermente trasparente, non è del tutto pieno come colore. Classico fogliettino, questo qui fa vedere, ci ricorda che dobbiamo togliere la pellicola protettiva anche in questo caso, quindi andiamo a togliere una parte, penso solo quella interna, sì. Ok, andiamo a togliere anche questa parte e andiamo a vedere questo modello. Questo modello secondo me rende di più quando andiamo a inserire il telefono. A prescindere poi dalla colorazione che avete del Note 10 Plus o del Note 10, guardate quanto è particolare, quanto è bella questa cover. Io devo dire che mi sono trovato davvero molto bene anche con lo stesso modello per il OnePlus 7 Pro, ce l'ho provato qui a fianco con me, ce l'ho provato installata in questi giorni, guardate quanto sono belle. A prescindere poi, come vi dicevo prima, della colorazione, se avete queste così parturali di un OnePlus o anche questa bianca più semplice, tra virgolette, del Note 10, guardate che bell'effetto che crea. Perché comunque lascia intravedere il bianco del telefono, ma allo stesso tempo abbiamo questa finitura a camo, leggermente semi-trasparente, da un grigio più chiaro, un grigio più scuro, fino a quello totalmente trasparente, ma sempre con questa rigrettatura nella parte esterna. E questa rigrettatura nella parte esterna, come già vi ho detto per quelle del OnePlus 7 Pro, è un plus non da poco rispetto alla Fusion normale, perché non si va a graffiare, dato che abbiamo una rigrettatura che è leggermente rilievo nella parte esterna, quindi non trattiene nelle impronte, quindi non si sporca, ma neanche si va a graffiare facilmente, come quella da tutta trasparente. E lo tutto poi è anche un po' più protettiva e abbiamo questa finitura che è decisamente più particolare. Chiaramente classica Fusion X, stesso identico design di quella precedente, stessi angoli, stessi bordi tazzati, superiormente e inferiormente per andare a proteggere il display, stessi identici tasti, qui a fianco abbiamo i due forilini per l'accetto da polso, stessi identici fori nella parte inferiore, quindi una cover davvero molto interessante se vi piace questo modello e se vi piace questo tipo di colorazione camo. E soprattutto con questo tipo di finitura camo è davvero difficile trovarla ad un prezzo di 12-13€ circa, quindi vi consiglio di optare per questo modello se ceccate una cover con questa finitura. Comunque, anche per questa cover è tutto, ve la smonto e passiamo subito al quarto e ultimo modello. Arrivando invece al quarto e ultimo modello, passiamo all'ultimo che è la Onix, anche qui military grade approvato, seppur non è resistente come l'Uklusion X, infatti non capisco perché la Rinke metta questa certificazione a tutte le cover quando poi non abbiamo la stessa resistenza. Quest'anno nuovo a Onix, devo dire che l'ho apprezzata molto questa cover, quest'anno perché? Perché è stata sempre una cover che si è rifatta un po' sulla falsa riga della Rugged Armor della Spiken, grazie a questi bordi, per questi suoi bordi un po' righettati che vanno un po' a ricordare la finitura carbonio della Rugged Armor della Spiken, invece quest'anno mi è piaciuta perché ha inserito il loghetto qui sotto ma soprattutto ha dotato questa cover di una texture molto bella, particolare, non vi so dire che tipo di linea perché sembrano tante piccole righe orizzontali tagliate poi da delle linee oblique, molto molto particolare, decisamente diversa da tutte le altre cover di questo genere o comunque con questo tipo di design. Ha inserito anche delle strisce qui da un lato, delle righe che servono per migliorare il grip, vedete anche internamente, l'ha un po' rifatta, mediterate grade, ring original design, che contraddistingue come il logo che queste cover sono quelle originali, chiaramente abbiamo la tecnologia con i cuscinetti d'aria interna, ecco il motivo per cui è mediterate grade, però comunque non abbiamo dei bordi molto molto duri, molto rinforzati, quindi dovete comunque stare molto attenti se vi cate il telefono con questo tipo di cover perché non è altamente protettiva. Una cosa che ho apprezzato di questa cover è che si tiene benissimo in mano, ha degli ottimi pulsanti a livello di feedback, a livello quando andiamo a spingere, è dotato a dei classici ormai forellini nella parte laterale e qui sotto, i fori sono abbastanza ampi ma purtroppo non riesce ad entrare la penna USB perché non riesce ad arrivare fino in fondo, in alcuni casi con altre penne leggermente più più, piccole le riuscite a inserire, ottimo l'alloggiamento per le S Pen perché si va a prendere, si va a tirare fuori senza nessun tipo di problema perché abbiamo tutta questa parte qui sotto aperta, e poi una cover che ha leggermente i bordi riazzati per andare leggermente a proteggere il display quando per esempio lo andiamo a poggiare, ma non che vada tanto a coprire da urti o da cadute, però è utile quando giriamo il telefono in questo modo, poggiandolo su un tavolo, abbiamo una buona protezione per la camera posteriore e poi si tiene benissimo in mano ragazzi, perché è sottile, è leggera, è piacevole anche al tatto, al touch and fill, questa sua nuova back cover con questa nuova texture. Anche questa link Onyx se la potete trovare sul sito di Amazon Italia, come al solito vi lascio tutti i link qui sotto, ad un prezzo molto contenuto, questa si aggira intorno agli 8,99€, secondo me uno dei migliori rapporti con il prezzo per questi tipi di cover, specialmente questi modelli che hanno anche il military grade già in dotazione, o comunque integrato e certificato. Comunque ragazzi, anche per questa recensione, per queste nuove cover della RIN che è tutto, questa nuova serie per i Galaxy Note 10 e 10 Plus, fatemi sapere voi poi che cosa ne pensate di queste cover, chi di voi già le ha acquistate o chi di voi già le ha provate, mi raccomando per qualsiasi altra domanda, informazione, dettaglio, dubbo ragazzi, lo sapete, sono qui a vostra disposizione, mi potete contattare qui sotto nei commenti, o anche contattarmi tramite il canale di Instagram, tramite le chat private. E come al solito ragazzi, se vi piacciono questi tipi di video, vi piacciono anche questi tipi di prodotti o di recensioni, per supportare il canale anche, non scordatevi di lasciare un bel like qui sotto in descrizione, e come al solito, vi ricordo sempre di iscrivervi qui sul canale YouTube, se accendete la campanellina che trovate qui sotto, ci cliccate e sapete sempre quando sono stati caricati nuovi video, perché almeno vi arrivano alcune notifiche. E mi raccomando, non scordatevi neanche di iscrivervi al canale di Instagram, o agli altri canali social, io vi lascio tutti i link qui sotto, sempre in descrizione, a tutti gli altri canali social di Times Gadget. Per questa video recensione è tutto, noi ci vediamo sicuramente alla prossima, grazie ancora a tutti, da Pier Giorgio, Times Gadget, buona giornata.